Dal 1 marzo 5 asili nido del comune di Salerno apriranno alle 7 del mattino fino alle 18 del pomeriggio. Tutto questo per venire incontro alle esigenze delle donne che lavorano. Tra le novità anche l'apertura delle strutture comunali il sabato mattina nel mese di luglio e durante il periodo natalizio. Si amplia dunque l'offerta dell'orario degli asili nido che attualmente accolgono 639 bambini dai 3 mesi ai 3 anni. Tra le novità anche la creazione di un albo comunale per le babysitter. Il trasporto scolastico che sarà esteso su tutti gli asili comunali è in più questo bando per le babysitter. Che cos'è questo bando? Apriremo, visto la richiesta che viene oramai dalle famiglie, di avere personale esperto e possibilmente che dia garanzie. L'amministrazione comunale ha pensato di aprire un bando per persone che hanno gli stessi titoli e le stesse caratteristiche. Per poter essere formati dal nostro personale e dare un'ulteriore risposta di servizio alla collettività. In più stiamo ragionando per costruire all'interno del SISAF, uno sportello che abbiamo realizzato qualche mese fa nella struttura delle politiche sociali. Un luogo dove i genitori il sabato, il venerdì e il sabato possono lasciare i propri figli e dedicarsi una giornata in spensieradezza sapendo che ci sono delle strutture con personale affidabile. Nel 2012, annunciato il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca, sarà inaugurato un nuovo asilo nido a Pastorano. Uno sforzo che l'amministrazione comunale sta compiendo da anni per soddisfare le esigenze delle famiglie. Nel 2011 il tasso di copertura del servizio è stato pari al 24% con la presa in carico di 639 bambini. Nel 2012 arriveremo, ha detto ancora De Luca, al 26,6% ed in tutta la regione campagna la percentuale è solo del 2,4%. Salerno dunque è la seconda città italiana dopo Bologna che dà ospitalità a tanti bambini.